Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red Come vedete oggi siamo su questo bellissimo gioco Fantastico Che è ancora in beta come ben sapete Ma comunque ci sta prendendo un po' tutti Vedo e ovviamente continuiamo quello che stiamo facendo Ormai si era fatto buio Dovamo spostare le persone I nostri soldati nelle varie zone Questi qua dobbiamo portarli qui Ah l'ultima volta ci siamo oltre Cosa succede? Stasera c'è la luna piena Il cielo è perfettamente limpio Oh! C'è luce quasi come di giorno Non dovrebbero esserci infetti per le strade Perfetto allora possiamo continuare le nostre ricerche Ok vabbè loro li mandiamo comunque a svuotare tutto Ok perfetto Trasmissione Abbiamo bisogno di uno spazio di lavoro dove poter sperimentare e riprogettare tutte le tecnologie pre-pandemia Potremmo anche conservare dei libri Costruiamo un centro di ricerca E affidiamo alle nostre menti più tecniche Ok perfetto Allora ci serve una struttura per le ricerche Che non credo un edificio enorme Ma un edificio abbastanza adeguato per la ricerca Credo che possa essere utile questo edificio Oppure troppo piccolo Perché è ok per la popolazione Ma un edificio per queste cose io direi Uno piccolino Penso O magari Spero di non sbagliarmi Poi intanto possiamo smantellare queste case Perché danno un po' fastidio in questa No Ah questo edificio può essere adattato Quartier general Addirittura Quindi lo possiamo usare Per qualcosa Centro ricerca Conduce ricerca e scopre Risorse capacità 0,7 Però non è troppo piccolo poi Allora magari questo lo distruggiamo Che non serve E anche questo Mi sembra un po' troppo piccolo Proviamo a fare questo Quello che abbiamo detto Centro ricerca Proviamo Magari una piccola struttura Per la ricerca ci sta Non credo che c'è bisogno di un palazzone Allora lì il legno manca ancora Non so quanta legna abbiamo 106 Allora Voi andate a recuperare le risorse qui Voi fatemi Questi edifici Ci conviene completarli assolutamente In questo caso Visto che approfittiamo che è notte Sì Però i nostri uomini Possono prepararsi Diciamo Per raccogliere Altre risorse Tecnicamente però Noi abbiamo bisogno Secondo me di altro legno Io direi Di tagliarne altro Perché Vedo che qua sono a 79 Non so quante ne abbiamo qua 106 Ok Quindi quello che è in magazzino Tecnicamente abbiamo il legno per tutto Però raccogliere non è altro Non fa mai male Facciamo fare le ricerche Invece l'oro Li prendiamo Effettivamente potevo usare l'auto Effettivamente Però magari Non sprechiamo la benzina così Visto che Non abbiamo Tanto carburante Forse è meglio Nelle vicinanze Muoversi a piedi Almeno La vedo un po' così Magari Poi mi sbaglio E se qualcuno Magari ha più esperienza Mi ha giocato un po' di più Rispetto a me Perché comunque Io mi sono fermato Perché volevo Essere blind Tutto in live Quindi Volevo La possibilità di dire Oh Che bello Vedere una cosa insieme Nuova Ecco qui Non come la serie di Europa Universalis e Crusade King Se in caso siete interessati In generale In strategici Sto facendo anche altri video Che appunto Sono su Europa Universalis 4 E Crusade King 3 In futuro potrebbe esserci Un'altra serie E Penso Però su Europa sempre Perché su Europa Uscirà il nuovo DLC Prenderò gli ultimi due Perché l'ultimo Non l'ho preso A prendere gli ultimi due Perché proprio l'ultimo È molto 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 interessante Devo essere sincero Devo essere molto 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 sincero Sembra interessante Soprattutto per quello Che offre ecco Quindi vedremo Vedremo un po' tutto Ovvio che ci saranno altri giochi A essere interessato Magari Scrivendelo sotto ai commenti Effettivamente che giochi Strategici vi interessa Vedere Magari Possiamo portare qualcosa di nuovo Magari un gioco Tipo Un po' vecchiotto Come ad esempio Nel Soviron O magari Possiamo puntare un gioco Abbastanza nuovo Tipo un Victoria Victoria 3 Scusatemi Comunque Ci sono tante cose Ve l'ho detta Giusto per Giusto per farvi Trovare Magari se vi interessano Altre serie di strategici Intanto Comunque Per ora È tutto tranquillo Mi sono permesso di parlare di altro Visto che stanno facendo le ricerche Eccetera Stiamo un po' capendo Effettivamente come funziona E dobbiamo Pian piano Muoverci Sicuramente possiamo fare le ricerche Dobbiamo Ci serve la struttura E poi valuteremo Effettivamente Che ricerca fare Sicuramente L'agricoltura Dovrebbe essere una delle prime Perché non so Quanto cibo Riusciremo a trovare ancora In giro Oddio La città È veramente Veramente enorme L'area di gioco Molto molto interessante Quindi Non so se si sbloccheranno altre aree Sono Ignorante Su questo discorso Però Come vedete Cazzo C'è un po' di roba In giro Ce n'è tanta Queste sono tutte Abitazioni Normali Ci sono tante zone di Fortunatamente Dove abito Ci sono tante scuole Quindi Troveremo tante cose Di ricerca Per la parte medica Vedo Che invece Scarseggio Mi pare che l'unica zona Che c'era Abbiamo preso No Abbiamo preso nulla ancora Ecco qui Qui ci sono Benzinai Mi pare sopra C'è un ospedale Eccolo qui E mi pare che c'è solo quello E quello È un problema un po' Preoccupante Ecco Inrovistamento Ma non ha finito Come Ah ok Deve portare le risorse a casa Ah no ma sono Ho messo No scusatemi Sono stupido Scusatemi Colpa mia Ok Loro le portano automaticamente Quando finiscono la ricerca Portano tutte le risorse Direttamente a casa Allora facciamo passare anche loro Così prendono Anzi direi Di buttare l'oro lì No no Aspetta Ho sbagliato No Di fare direttamente questa struttura E invece l'oro Avanti e indietro Con quella E raccogliere tutte le risorse Abbiamo ancora La notte Con la luna piena Quindi ci aiuterà tantissimo Ci aiuterà tantissimo Nel trasportare tutte queste risorse Fondamentali Per il nostro gruppo Abbiamo tante munizioni Abbiamo abbastanza cibo Per due giorni Attualmente Per il numero di cittadini Che abbiamo Abbiamo altre risorse Da prendere Qui quindi non è un problema Ma Dobbiamo fare Sicuramente attenzione Allora Pannello squadre Ah posso fare più di una squadra Quindi Premi per parlare Ah no Questo non ci serve adesso Ripara Forse ci conviene riparare Sì dai Facciamo riparare Anzi no Facciamo quando ci sono le persone vive Ok possiamo togliere pausa Niente ragazzi Ogni tanto metto pausa Perché secondo me È fondamentale Mettere Visto le situazioni Adesso siamo stati fortunati Che c'è stata la notte La luna piena Quindi I lavoratori ritornano A breve a lavorare Ecco qua I cittadini Ritornano A lavoro Cosa molto importante Per noi Un lavoratore Tre lavoratori Stanno andando tutti A fare il loro dovere Dobbiamo avere Un po' di pazienza E abbiamo quasi finito tutto A breve sarà Pronto anche Il rifugio Per i nostri cittadini Salvataggio automatico Vabbè perché è finito Giustamente sono le 6 di mattina Si ritorna Operativi ragazzi Operativi A lavorare A lavorare Dai dobbiamo finire questa casa Da mille anni Ne ho chiamo di essere più sveltini Queste abitazioni smontiamo E non servono a un cavolo Sono troppo piccoli Secondo me Insomma anche se va bene questo Speriamo di sì Ma qua ci sono altri edifici poi Sì vabbè ci sono anche Questi altri due edifici Che possiamo usare Magari per altre strutture Questi possiamo Demolirli Secondo me non servono a molto Sì questi qua Non servono a niente Allora Voi raccogliate le risorse Ok facciamo ritornare direttamente a casa Ci facciamo un giro Per prendere le cure mediche Secondo me dobbiamo svuotare l'ospedale È fondamentale Da svuotare Dobbiamo fare attenzione Massima attenzione Cerchiamo di essere un po' più svelti Eh Qua hanno trovato munizioni Boh La situazione Sembra abbastanza Buona Buona Più che altro Secondo me dobbiamo costruire più difese Ma non abbiamo molte armi Non abbiamo armi Quindi Attualmente avere altre difese Non credo sia Utile Per la nostra situazione Ok loro stanno tornando indietro Poi prendiamo Andiamo di attenzione La macchina Raccogliamo la munizione Ma poi andiamo a raccogliere medicinali Sicuramente possono servire I lavoratori qua Stanno facendo del loro meglio Dobbiamo avere un po' di pazienza Però È quasi finito L'unica cosa che non mi piace È molto 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 lento Nella costruzione Non so O rallentano il tempo Perché va troppo veloce Perché comunque ci mettono Veramente un casino Cioè era 75 Hanno portato 20 pezzi di legno 74 ok Ma Vedo che ci mettono Un po' troppo tempo In alcune cose Oppure sono Due passi È quello del discorso Allora Loro sono arrivati Andiamo a prendere la macchina Andiamo a recuperare Le munizioni E poi Andiamo subito In questo famoso ospedale Ok Abbiamo raccolto tutto Ora Andiamo Iniziamo ad andare Avanti E andiamo Qui Sicuramente Troveremo un po' di risorse Intanto loro approfittano Di andare lì La squadra Sta esplorando ancora L'unica cosa positiva È che abbiamo Tante tante risorse Sicuramente intorno Che possiamo sfruttare A nostro vantaggio Quindi Dobbiamo darci da fare Se posso essere sincero Abbiamo tanta roba Da vedere Eccetera Non vorrei fare altri soldati Per esempio Perché non abbiamo Armi e risorse Per farlo Non abbiamo Chissà quante risorse Quindi effettivamente Cioè Più che risorse Oltre le risorse Anche la popolazione Ci servono più lavoratori Come vedete Sono un po' impegnati Non ci sono persone Per fare questo Vedo che comunque Alcuni sono un po' Trasmissione Abbiamo trovato Alcune forniture mediche Saranno sicuramente utili Ora saremo in grado Di prestare Primo soccorso ai feriti Ma se vogliamo Guarire le persone In modo più efficiente Dovremmo costruire Un ambulatorio Ok Dobbiamo costruire Un ambulatorio Ah Ecco qui Allora Qualcuno nei commenti Mi aveva chiesto Come mai Dal 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 quartiere generale Le truppe Non venivano guarite Automaticamente Penso Credo Sto giusto buttando Per ipotesi Sto giusto buttando Per ipotesi Che magari Forse dovrebbe servire L'ospedale Allora Ricerca in corso Tempo di ricerca Stimato 44 dati Sì ma aspetta Fammi scegliere la ricerca Che è l'agricoltura Credo che sia La cosa più sensata Non so se funziona così Agricoltura Ci vogliono 19 ore Perfetto Un lavoratore Assegnato Il massimo è 1 Se ci vogliono 19 ore Ci vogliono 19 ore Dobbiamo adattare Adesso una struttura Proviamo Perché non sappiamo Effettivamente Se è così O meno Magari Ci sbagliamo Allora dobbiamo Adattare una struttura Per l'ospedale Penso che sia meglio Farlo abbastanza Grande Direi questo Ambulatorio Perché non posso Ah ricerca Serve la ricerca Cazzo Però penso che Dobbiamo tornare Oddio Oddio Dove sono i nostri Compare Veniamo alla prossima volta Veloci Veloci Via Non avevo fatto caso Che si stesse facendo Già tardi Allora via 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 Subito Tornate A casa Allora vabbè Sono in vicinanza Quindi Non è un problema Ah pensavo fosse in pausa Allora ancora Non avevo finito Di cercare Dice 100% Ah ma ha finito No Non me l'ho conto Ha finito Boh vabbè Torniamo a casa Voi Andate qui A difendere Così abbiamo Tutte le strutture Coperte Dove Te pareva Che non arrivava Eccola lì Eccola l'orda Aiutate Prima che cade Madonna Quante ne sono Madonna Santa Ne sono tantissime Aiutate ragazzi Ok Distraiamo i zombie Ah sicuramente Questo è da riparare Assolutamente Da riparare Ok forse è meglio Ripararla dopo A fine zombie A fine giornata Eh dobbiamo riparare Anche la quartier generale Adesso Mannaggia Dio santo che Ma non posso Allora vorrei cambiare L'arma No Come posso Cioè non posso Scegliere l'arma Da dare La squadra Questo è da capire Vabbè è una piccola Ordine Utile uscire Le ammazzano subito Fortunatamente Me la so vista brutta Questa volta Se posso essere sincero Non mi aspettavo Tutti questi Zombie Accaniti Sulle mie strutture Boh dovrebbero Essere finiti Aumenterei un po' La velocità Così facciamo passare la notte Tecnicamente dovrei Non credo che ci saranno Altri attacchi Spero Se infatti Si sta facendo giorno Finite questa roba Voi invece andate nell'auto Che andiamo a prendere le ultime medicine E andiamo a riparare le strutture Gentilmente Ripara Ripara anche queste da riparare C'è tanta roba da riparare Chiamo di sistemare ragazzi tutto Allora voi Finite di Prendere le medicine In quest'area Ci servono un po' di medicinali Eh Dobbiamo muoverci ragazzi Qua quando cazzo finiscono La porca puttana Non finiscono più Ci stanno mettendo una vita Sì abbiamo avvistato alcune persone Probabilmente Armate Potrebbero averci viste anche loro Non riesco a capire se hanno Intenzioni pacifiche Che facciamo Avvicinatevi amichevolmente Proviamoci Proviamo Ci hanno attaccato Ok Abbiamo trovato armi All'unica cosa positiva Abbiamo trovato armi E ci fa più che piacere Minchia Ci hanno attaccato subito Ma manco Il tempo Di parlare con noi Mamma mia Capi Molti dei nostri lavoratori Non hanno nulla da fare Ma andiamo a raccogliere risorse Sì Sì va bene Qua si è buggato Non mi fa più le ricerche ragazzi Non so che dire Si è buggata la struttura Molti lavoratori Non stanno facendo niente Meglio Vuol dire che abbiamo raccolto tutto In realtà no Diciamo che è il momento Di raccogliere altra legna Secondo me Abbiamo bisogno Di tanto legna Raccogli i mattoni Magari facciamo raccogliere Anche i mattoni Iniziamo a conservare Un po' di risorse Vedo che non ne abbiamo Tantissime Dobbiamo un po' Muoverci Abbiamo trovato Tre pistole Ragazzi Ottimo Possiamo fare un'altra squadra Effettivamente Ma qua Ho chiesto di distruggere Come fa a dire Nessun lavoratore Forse Stanno aspettando Oh Cavo abbiamo trovato Dei semi In uno degli edifici Sembra grano C'era anche alcuni Attrezzi agricoli Forse potremmo usarli Per ricominciare A coltivare Ottimo Ho capito Per favore Ok ragazzi Allora ragazzi Abbiamo trovato Roba interessante Roba interessante Andiamo a vedere Come va Come va I nostri uomini Stanno ancora cercando Beh Ripeto Effettivamente Possiamo fare la prossima squadra La faremo Appena abbiamo le armi a casa Non si sa mai Magari non è Non è molto fatta bene Questa cosa Ma quindi adesso Posso costruire Questi Ma Ah si Posso costruire i campi Preparare l'area Adatta per la coltivazione Allora Sicuramente A noi conviene Tipo quest'area qua Coltivare O facciamone Due Non so quanti Anzi facciamo tre Dai Me ne ha contrati tre Facciamoli E così abbiamo Persone che lavorano Intanto portiamo Poi le risorse Ne andiamo a prendere altre E poi continuiamo La ricerca Siamo messi Abbastanza bene Adesso Avendo trovato Tutta questa roba Io direi Veramente Veramente Messi bene Qui Quanto ci vuole Eh stanno trovando Un sacco di risorse Lasciamoli lì Oh Finalmente Abbiamo l'edificio Finalmente Facciamolo anche Riparare Questo è stato Riparato Assegna Lavoratore Sono tutti Arrovestatori Guardia Sei costruttori Dice che Abbiamo troppo Le persone Non facevano niente Ci sono tre strutture Da buttare a terra Nel nome di Dio E non l'hanno fatto Vabbè ragazzi Ha un po' di problemi Sicuramente Però Però Aspettiamo Prima Un po' Vediamo Con le patch Se riescono a risolvere Un po' Di questi Piccoli problemi Allora Io direi di portare Il grano A casa Che sicuramente Abbiamo pochissimo Cibo Cavolo No Si sta facendo Si è fatto buio Cazzo Aspettate Questo è rischioso Dobbiamo muoverci Aspettate Pausa Veloci ragazzi Correte Amma mia Molto rischiosa Questa cosa Però L'importante è che Riescono a ritornare Indietro I nostri Ragazzi Riescono tutti A ritornare A casa La tecnologia Sta avanzando Oggi Mi piace L'hanno proprio Con questa struttura Eh raga Ragazzi La notte È pericolosa È molto pericolosa Molto 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 pericolosa Infatti Cerchiamo di fare attenzione Comunque dobbiamo costruire tre campi Quindi ho fatto Manco farlo apposto Ho fatto i campi che ci interessano Adatto edificio Ci ha chiesto di fare una cucina Beh Possiamo usare questa come cucina Ok Abbiamo anche scelto la struttura Per la cucina Abbiamo le ricerche La cucina L'ospedale Magari potremmo usare questa Troppo grande forse Oppure magari la cucina Facciamo Aspettiamo una cosa Questo magari facciamo Il piccolo ospedale E qui facciamo La cucina A sto punto Ci conviene Muoverci in questo modo Prendiamo le piccole strutture Perché penso che Una struttura grande Se ci mette così tanto tempo Come ha fatto qui È un po' rischioso Io metterei qua A alta velocità Vedo che Non si stanno mostrando Molti mostri Dobbiamo riparare l'auto Spero che abbiamo risorse Il ferro Se abbiamo abbastanza Abbiamo bisogno di tante risorse Siamo a corto Vedo che Oh 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 Aspetta Ecco zombie Ragazzi Andatevi ad aiutare Sono quasi Ok Possiamo mettere a massimo Visto che il giorno è finito Allora Risorse mediche Ne abbiamo L'ospedale C'è ancora da Da prendere altre risorse Però io direi Di mandarli entrambi A completare Questo edificio Di ricercare Tutto quello Che abbiamo intorno Più velocemente Cerchiamo di fare tutto Allora Persone le stanno andando Al lavoro Però principalmente Tutti si stanno concentrando Su queste cose Quindi io direi Si può annullare Per favore Fate altro Abbiamo tante strutture Capo i sopravvissuti Che abbiamo accolto Hanno alcune importanti informazioni Che potrebbero esserci utili Parlano di vari tipi Di animali infetti Che hanno incontrato E anche altri gruppi Di sopravvissuti Ma di recente Hanno perso delle persone Ci vorrà del tempo Prima che si integrano Lasciamo trovare Un lavoro E un riparo Facciamoli riposare Per ora Facciamoli rilassare Con calma Ma dice che non abbiamo persone Ma come è possibile Ah ecco Che devo scegliere io così Che cazzo L'aveva capito E per distruggere Invece Sempre costruttore Aspettate Che devo capire un attimo Questa cosa Chi si occupa di questo? Nessun lavoro Da smantellamento E ma non c'è nessuno Ah ecco Dovevo aumentare Questi rovestatori Scusami Il gioco Non poteva farlo automaticamente Come fino adesso Non capisco perché Adesso magicamente Lo devo fare io Boh vabbè Non mi chiedete Come mai Ma Mazzate a fare capricci Così Abbiamo raccolta di legno Raccolta di pietra Il ferro Ce l'abbiamo abbastanza Credo Ma adesso distruggendo gli edifici Lo raccogliamo Tutte queste cose Quindi siamo Abbastanza Ottimisti Su questo discorso Speriamo che aumenta La velocità di ricerca Facendo in questo modo Vediamo Perché sarà molto importante Per noi Cercare di fare le cose bene E da capire Se è un bug Quello Se c'è tante cose Da capire effettivamente Abbiamo bisogno di attrezzi Per i campi Cavolo Consumano tanto Dai grandi lavoratori Cerchiamo tanta roba Speriamo di trovare A voi intanto Tornate Portate queste risorse Abbiamo poco cibo L'edificio è stato Completato tutto Allora Poi voi Magari Rovistate qua E invece voi Rovistate questo Cerchiamo un po' Di raccogliere Più risorse possibili Che siamo Molto 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 accorto Vedo Ci siamo Abbiamo bisogno Un po' Di tutto Dai su ragazzi Abbiamo effettivamente Un supermercato Qui Quindi se abbiamo bisogno Potremmo andare lì A raccogliere Il cibo Effettivamente Facciamo questa squadra Che fa qui Poi gli mandiamo Rovistare Quell'area C'è tanto l'auto Che è stata riparata Carburante Ne abbiamo Bastanza Per muoverci Questa Tanto è vicino Quindi non credo Che consumi molto Vediamo qua Se cercano Trovano qualcosa E un po' di cibo Dai Meno male Poi andiamo qua E poi Vabbè Facciamole entrare Prima in auto Non so se Poi si creano problemi Eh ragazzi La situazione è abbastanza Dovremmo formare Una terza squadra Ma ho paura Che dopo rimaniamo Senza cittadini È Problematica Questa cosa Però abbiamo Le armi Quindi potremmo Effettivamente Magari Costruire una torre Addirittura in metallo Ma non abbiamo Così tanto metallo Di costruire Più Zone Difensive Magari vicino Alle nostre strutture Difensive Al palazzo Visto che abbiamo Le armi Lo facciamo Ognuno di questi Ne consuma due Quindi E magari Ne mettiamo un'altra Nelle vicinanze Qui Vicino alla casa Anzi Aspetta Questo rimuovi E direi di farlo Vicino A questi due edifici E così Perfetto Abbiamo costruito Il primo edificio Abbiamo bisogno Di produzione Attuale Se abbiamo L'etame Ne produce di più Ovviamente Minchia Ci volete un po' Per Ah Sta arrivando Già buio Cazzo Il tempo Vola Abbastanza Velocemente Allora Mi sono accorto Adesso Madonna Santa Non ci credo Vabbè Non è che Questo gioco Chiede tantissimo L'audio Se è fondamentale Cazzo ragazzi Mi spiace Ma Ora ho notato Che si era Mutato L'audio Del computer Quindi non sentivate I suoni Vabbè Vabbè Non è che ci sia Tanto da sentire Alla fine Suoni Non sono così Fondamentali Fortunatamente Non sono così fondamentali Chiedo scusa Su questa cosa Capitano questi errori Io direi di fermarci Adesso così In questo modo Ci vediamo Nel prossimo episodio Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Lasciate un commento Se la serie vi interessa Lasciate anche un follow Se vi interessa I giochi strategici In generale Così magari Portiamo altri insieme Non c'è nessun problema Potete anche consigliarli E niente Detto questo Vi mando un bacio Forte dal mio cuore Mua